Occasioni, ma Milan che comincia a farsi vedere con un po' più di costanza nell'area di rigore del Verona! E c'è il gol di Spagnoli! E il Milan che quindi concretizza questa presenza appunto in attacco degli ultimi minuti. Molto buono l'inserimento di Spagnoli. Torna dal primo minuto Pippo Lora con un assist, quindi molto buono l'inserimento del numero 10, Rosso Nero. Che ha trovato l'impatto giusto con il pallone. L'angolino lontano a battere Sluga che ha provato a distendersi, non c'è arrivato. Dunque il gol di Alberto Spagnoli per l'1-0 del Milan e ora sblocchiamo questa partita. Dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Concretizzata la superiorità che stavamo portando nella metà campo dei padroni di casa. Prova a giocarla subito il Verona. Porta in avanti cinque minuti.